Allora! Mauro per due, tira i numeri. Dammi due numeri. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Bisogna che due posti vuoti. Ma ce n'è uno solo qua. Ce n'è uno solo. Uno. E' vuoto quel posto lì. Ce n'è uno qua. Dove sono andati, ragazzi? Dove sono andati, ragazzi? Ah, sono qua. Ce n'ho due qui. E' uno e là.